Parchi pubblici lasciati in abbandono, scarsa manutenzione e erba alta lungo le strade, anche in quelle più trafficate e in vista. Questa è la situazione fotografata e denunciata dal direttivo di Forza Italia a Camaiore, che attacca l'amministrazione comunale. La zona finita sotto la lente di ingrandimento è quella dei dintorni di Viale Kennedy, in genere frequentata dai turisti. Siamo in prossimità, anzi a stagione inoltrata e questa è la situazione che viene presentata ai turisti che stanno per arrivare e che sono già arrivati sul nostro territorio. Erba alta, staccionate rotte e sporco lungo le strade. Forza Italia a Camaiore denuncia fortemente questa situazione, si fa portatore degli interessi dei propri cittadini e invita l'amministrazione comunale a intervenire al più presto, non tollerando che alla fine di maggio, inizio giugno ancora si presenti questo degrado sul nostro comune.